Chi ha iniziato per prima? Ho detto a Maya che era bassa come una pila di pancake. Ok, ed era il primo colpo o Maya ti ha detto qualcosa che ti ha spinto a dirle questo? Mi ha chiamato a Colberry. È possibile che io l'abbia chiamato anche Ranger Rick una volta. Una volta? Ranger Roy una volta, Ranger Rick tutti i giorni. Non dimenticare Bucky Mc Boing Boing. Sì, era forte. Oh, mi si mette davanti e mi fa... Come se io parlassi così. Oh, ok. E perché tu fai così? Lui me lo permette. Oh, perché glielo permetti? Sì, piacerebbe saperlo anche a me. Ti ha solo detto che sei bassa come una pila di pancake e ti arrabbi con lui. Non mi arrabbio con lui, mi arrabbio con lei. Mi dispiace, Maya, ma come potrei mai difenderti riguardo alla tua altezza? Come io difendo te riguardo alla tua altezza. Cosa? Immagina qualcuno che ti abbia chiamata... Non so, superimbranata. Cosa? È tutto ok, Riley. È soltanto che hai queste gambe e braccia lunghe di cui non hai ancora pienamente il controllo. Quindi forse a volte non ti muovi molto bene. Lo faccio spesso? No, ma fai anche questo. Ehi! Nessuno può ridere a parte me. Non ho mai sentito nessuno chiamarmi superimbranata. Perché io ti ho sempre difesa. È così che mi vedete? Sì! Ok, questo mi ferisce un po'. Perché mi ferisce? Perché è vero, Riley. A volte dicono di noi cose vere. Però tu mi hai difesa. Certo che ti ho difesa. Anche se era tutto vero. Non ha importanza. Perché? Perché cosa? Perché non ha importanza. Siamo migliori amiche. Non ti ho sentito. Siamo migliori amiche. Ancora non ti ho sentito. C'è qualcosa che non va. Sono migliori amiche, Eric. Lo hanno capito. Ce l'hai fatta? No. No! Questo lo sapevano già. Non è questo il punto. C'è molto di più. Pensi che io sia superimbranata? Sì. Pensi che io sia superbassa? Penso che tu sia bassa normale. Grazie. Quindi tu sapevi che tutti mi chiamavano così, ma non hai voluto dirmelo? Non volevo che soffrissi. Beh, non ha funzionato. Ti raggiungerei se non fossi già quaggiù. Chi vuol dire che c'è molto di più? Sapete, non l'ho mai detto, ma a volte mi chiedo se il mio desiderio di dominare il mondo non nasca dal fatto che in realtà mi sento un topino che squittisce. Cosa ti fa sentire così? Sei tu. Come? Esistendo, razza di mostro. Sono un mostro? Guardati! Guarda che faccia da mostro e che capelli da mostro è troppo! Ehi, tu pensi che sia facile? Pensi che sia facile essere me? Chiudi il becco. Sì, ok. Un dollaro per vedere il mostro! Sta zitto, chiappe mosce! Cosa? Davvero? Non ne avevo idea! Ci pensi tu? Sì, la gente mi ha eletto sindaco perché ha fiducia in quello che faccio. Dal punto di vista politico? No, io di politica non ci capisco niente. Mi affidano i problemi personali. I problemi ce li abbiamo tutti. E i vostri stanno saltando fuori in questo momento. Gli altri non sono vostri nemici. State tutti attraversando la stessa fase. Crescerei anche questo. Sono un imbranato. Io un pancake. Un topo. Un mostro. Ecco perché sto scomodo così. Beh, sembriamo tutti usciti dal circo.